Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io ringrazio il Presidente, i membri del Comitato di Presidenza, i conservatori, gli accademici, tutti presenti qua oggi, gli ospiti. Ho accettato davvero con piacere l'invito che mi ha fatto il Professor Majorana, Presidente, perché ritengo sia una bella occasione per me per, da un lato, condividere quelle che sono, secondo me, un po' le sfide che accomunano gli Atenei, diciamo, multidisciplinari e anche storici italiani e poi farmi conoscere quelle che sono le linee di sviluppo strategico che l'Università di Pavia in questi anni sta portando avanti e con particolare poi riferimento a programmi di internazionalizzazione e di ricerca, ma anche io ho badato molto all'inclusione degli studenti e a provare a rinnovare spazi e luoghi per ricerca e formazione. Capite presto che questa è una cosa che si può fare nel momento in cui si riesce anche a condividere l'esigenza con le istituzioni governative regionali, perché i fondi che sono richiesti a un Ateneo come quello di Pavia, ma in generale, certamente anche riguarda tutti gli Atenei milanesi, sono talmente ingenti che non possono arrivare o derivare da piccole economie di bilancio. Quindi ci vuole una progettualità, una capacità di incidere e una capacità di essere ascoltati a livello di governo e di istituzioni, perché altrimenti la cosa diventa infattibile e devo dire che poi dipende dai momenti. Forse questo momento recente è stato un momento abbastanza favorevole, nel senso che post-pandemia ha portato a un colpo di regni che sicuramente ha riguardato anche la formazione di istituzione e noi, secondo me, come Atenei, se siamo stati vigili abbiamo potuto fare dei passi avanti. Ora, spero che anche le prospettive degli anni a venire potranno confermare questa tendenza, anche se, vabbè, però si viveva la giornata e ora mi guardava già con pessimismo. In realtà c'è questa nube, però io voglio pensare che andremo oltre. E ecco, io magari, così ho la sensazione di fare lezione, visto che ormai lezioni ne faccio ben poche perché ho poco tempo, mi metto qua che mi sembra di fare lezione. Dico qualcosa, anche se il professor Maiorana ha già detto bene alcuni tratti del mio curriculum precedente all'essere rettore. Forse se ne devo dire quattro, beh, sono ingegnere elettronico, ho fondato una start-up fatta con degli studenti in California, proprio i miei primi due studenti, e poi è stata anche venduta a Philips, se no sono diventato ricco per quello. E poi sono stato, come dicevo, ho curato laboratori scientifici in Ateneo, in condivisione con aziende, e ho fatto tante cose per la società internazionale, e dal 2019 sono rettore dell'università. Quindi in qualche modo posso anche dire che dopo quattro anni ci sono diversi aspetti per cui posso consolidare alcuni pensieri. Ecco, prima di entrare proprio nel, forse così un po' meglio, io almeno sento rimbombo, per voi è meglio così o se stavo di là? Uguale? Allora, ecco, prima di entrare un pochettino nel vivo delle progettualità, io volevo condividere con voi un pensiero di fondo, che è un po' questo. Se noi pensiamo a come i media in particolare, e quindi un po' i cittadini, le famiglie, oggi o periodi più recenti, guardano alla formazione superiore, all'università, beh, vediamo che l'accelerazione per elementi sintetici che possano individuare la qualità di un'università sono andate incrementando, e in fondo forse classifiche, cendenze, sono ciò che dirigono il pensiero e poi un pochettino anche le scelte. Io ora non entro nel merito del mio giudizio, so cosa siano, che valore abbiano, quanta scientificità abbiano queste classifiche, quanto piuttosto voglio fare una piccola riflessione su come è cresciuto, come si è sviluppato, più che cresciuto, il sistema universitario italiano e quelle che secondo me sono esigenze primarie in ottica prospettica. Allora, da un lato io credo, soprattutto in un ambiente come questo, che ha da insegnare a me in termini di accademia, che conveniamo circa il fatto che l'università italiana, tutto sommato, si è sviluppata non avendo come obiettivo primo l'eccellenza. Ha sempre pensato di sviluppare in diversi atenei, e in tutti, nel maggior numero di atenei possibile, un livello alto o molto alto di qualità di ricerca e di formazione. Ma in fondo l'eccellenza non è mai stato, a differenza dei sistemi anglosassoni, il punto di attacco o di scopo dell'accademia. Se pensiamo anche a alcune esperienze invece che sono dichiaratamente di eccellenza in Italia, quale la scuola normale superiore di Pisa, per esempio, qualcosa di questa natura, individuiamo un, senz'altro, un obiettivo di quel tipo, tra l'altro praticato, che però riguarda un numero irrisorio di studenti. Stiamo parlando di 1.800.000 studenti in Italia, 2 milioni, e quanti sono quelli che frequentano le scuole superiori? 100 all'anno, 200 all'anno. Quindi è praticamente inesistente. Però quello che io voglio ora dire è che in realtà questa cosa non è, secondo me, sminuitiva. Perché dire che si vuole guardare a un livello alto o molto alto, che risvolto tutto sommato ha, beh, lo capiamo pensando a qual è la percentuale di Atenei italiani che rientra nei primi mille Atenei mondiali. Teniamo presente che oggi se ne classificano già 10-15 mila, saranno 30 mila, quindi mille è già una sottoselezione. Beh, gli Atenei italiani che stanno all'interno dei primi mille sono il 20%, quelli degli Stati Uniti sono l'8% e anche in Francia meno, attorno al 7%. Questo che cosa vuol dire tutto sommato? Che uno studente, e tra l'altro sono piuttosto diffusi sul territorio, che uno studente che accede all'università mediamente, maggiori probabilità di farlo a un livello alto o medio alto in Italia rispetto a quanto non succeda in altri paesi. E' considerato il fatto che l'Italia ha già pochi laureati rispetto al numero di cittadini, una decrescita, come peraltro anche tutto un po' l'Occidente, ma comunque un calo demografico in prospettiva, beh, il fatto quantomeno di avere una capillarità a livello alto, medio alto, secondo me può essere vista anche come una risorsa. Ma voglio aggiungere a questo il fatto che c'è un motivo storico, è per questo che volevo partire da qui. E non è che sia nato perché noi abbiamo deciso 30 anni, 100 anni fa rispetto agli anglosassoni, di fare un livello alto e loro sono andati con la grande eccellenza. Se noi pensiamo, oggi sono 80 atenei statali, transi pubblici, di interesse pubblico, non è anche statali, quindi anche privati. Quanti nel 1500 erano già 21? C'è un quarto di quelli che sono oggi. e erano, è inutile che lo dica ancora qui, erano diffusi sul territorio, erano un pochettino il simbolo della cultura e della formazione degli stati territoriali e sono, appunto, poi facevano anche un po' a gara per avere livelli buoni dei dirigenti che gli stati andavano formando. Ecco, poi devo dire che anche l'Unità d'Italia non hanno cambiato drasticamente questo aspetto, cioè l'Università italiana è sempre rimasta prevalentemente statale, pagata a livello centrale, anche per continuare a proporre e promuovere una cultura e una formazione diffusa. Forse con l'avvento dell'Università di Massa qualcosa è andato cambiando. In che senso? Da un lato l'autonomia, un'autonomia che potremmo anche discutere, però che in qualche modo è stata introdotta a livello legislativo a cui ho fatto seguito anche un giusto concetto di valutazione da associare. Visto che do autonomia, però vedo e verifico quello che stai facendo. Ecco, questo oggi la valutazione possiamo in grande sintesi dire che per le università statali si accompagna o guarda al numero di studenti che le università hanno. Il grosso del finanziamento, poi c'è anche una parte di valutazione della ricerca, ma il grosso del fondo di finanziamento che va agli atleti dipende dal numero di studenti che abbiamo, che è giusto, nel senso che in via di massima torna con quel che dicevo prima. Se servi poco una popolazione piccola o grande, avrai in proporzione A, perché hai un'esigenza che si commisura. Di contro però c'è anche questo aspetto, che se un territorio, perché gli studenti su cosa anche scelgono gli atenei, sulla qualità dell'ateneo, ma anche su quello che il territorio può offrire in termini di sviluppi successivi e futuri. Quindi se un territorio tende ad essere depresso, si rischia di colpirlo due volte, perché non è tanto la non buona qualità dell'ateneo che insiste sul territorio quanto lo studente non ci va perché dice vado da un'altra parte dove poi mi serisco anche nel mondo del lavoro. Quindi questo è un po' un elemento negativo del guardare al numero di studenti. Però io continuo invece a pensare che è giusto che si vada in quella direzione anche perché è anche giusto che gli atenei guardino alla società in modo un po' diverso rispetto diciamo così alla fine del Novecento, al preavvento dell'università di massa. Nel senso che la ricerca deve, può benissimo, avere impatto sulla società anche in termini economici, cioè anche nella capacità di creare iniziativa, di creare iniziativa imprenditoriale e far sì che le università possano al centro dei diversi territori essere e fare la loro parte come motore di sviluppo. Ecco, questa secondo me è un po' una delle novità che soprattutto in questi vent'anni, ma forse negli ultimi 30-40 anni, si è vista e quasi tutte le università questo tipo di cambio di ottica e prospettiva la stanno applicando. Io stesso ho fatto, prima di essere rettore, il prorettore della terza missione, ma non è questo che voglia evidenziare, non è che diventi tutto per forza, anzi, terza missione, continuo a pensare che tutto deve nascere dalla qualità della docenza, dalla capacità di fare ricerca, però anche capacità di avere impatto e porsi la domanda di quello che la società vuole in termini di qualità della formazione dei ragazzi e nuova imprenditoria e capacità di farla. Anche perché, torniamo a prima, abbiamo da un lato, forse noi al nord possiamo anche dire di beneficiare, lo dico con onestà, Pavia, come Milano, il fatto che dal sud diversi ragazzi tendono a venire a studiare qui, anche perché qui hanno maggiori prospettivi di lavoro, ma la stessa cosa la paghiamo a un certo punto dal nord all'estero, perché spesso i nostri, finita la triennale, decidono di andare all'estero. Avremo un calo demografico, stiamo aumentando molto la presenza di stranieri in Italia, come studenti, che anche Pavia in quattro anni è passata dal 6% al 12% di popolazione straniera. Però il tema esiste, quindi io penso che ancora di più si debba accelerare, chiedere all'istituzione, perché qui c'è bisogno di aiuto, di guardare l'università in senso lato anche come motore di sviluppo nella società e al centro di processi dell'innovazione, perché credo che questa sia una cosa che vada chiesto. Allora, quindi quali sono un po' i punti che ho sviluppato insieme alla Governance, agli organi di governo e al corpo accademico a Pavia. Beh, li ho sintetizzati un pochettino in questa trasparenza. Da un lato, l'ho appena detto, nell'ambito dell'innovazione anche pensare di sviluppare spazi di ricerca che uniscano l'università, le aziende e le imprese in maniera condivisa. creare una città, essere città sempre più internazionale. Beh, da questo punto di vista, la fortuna che la base di partenza di Pavia come città universitaria è già molto favorevole, perché è, nasce, e ha tutto per essere città universitaria e quindi spingere ancora di più perché lo diventi o si guardi alla città universitaria anche da parte di studenti stranieri, quindi con capacità di accogliere. Ricerche che siano in sintonia con le sfide della società, cioè aggiornarsi continuamente, non rispetto ai temi alla moda, ma rispetto ai temi che rappresentano novità a cui dare delle risposte. Partecipazione a reti internazionali è anche un modo per cercare di dare risposta a queste tematiche e poi dirò diverse cose relativamente al rinnovamento di luoghi e spazi per didattica e ricerca e che possano essere allo stato dell'arte internazionale. Da un lato io posso dire che abbiamo avuto la possibilità, grazie, come dicevo prima, a bandi interessanti che sono stati messi dai ministeri, dal governo, dallo Stato e in parte anche dalla regione. Ne abbiamo abbastanza approfittato proprio per dare una svolta e per far sì che anche i ragazzi guardino a questi luoghi nostri, i nostri intendo, ripeto, non sto parlando solo di Pavia, sono quelli che conosco meglio, ma posso dire che questo è diffuso in modo più ampio, che i ragazzi possano guardare i laboratori alle opportunità in un'ottica né internazionale, cioè non sentirsi, come invece in alcuni casi, mi dico anche per Pavia, un po' in posti ormai vecchi, più che storici. Ecco, pensare di rimanere al passo coi tempi. Quindi, parto dalla prima, cioè, che cosa in concreto abbiamo proposto nel contesto della relazione università-impresa e soprattutto ricerca che faccia impatto. Allora, in prossimità degli istituti scientifici dell'Ateneo, per chi conosce Pavia, ovviamente non guardo i pavesi, ma tutti voi, tra voi che conoscono Pavia, questa è l'area dove c'è tutta la parte scientifica, ingegneria, dove c'è la clinica Maugeri. Ecco, in quella zona, è matematica, biologia, abbiamo pensato di ospitare, creare una zona per ospitare, un parco, un'infrastruttura per ospitare aziende interessate a collaborazioni di ricerca e innovazione con l'Ateneo, cioè l'idea è localizziamo degli spazi perché imprese innovative vengano con dei contratti di ricerca, di collaborazione di ricerca con i dipartimenti universitari e dirò di più, non solo i dipartimenti universitari, ma tutti gli enti e istituzioni che a Pavia fanno ricerca, che vanno ben oltre l'università, ci sono i tre IRCS, c'è il CNR, c'è il DNFN, c'è un centro sismico, cioè l'idea è che tutti possono collaborare alla capacità di creare impatto. Quali sono i filoni su cui siamo partiti subito? Avevamo focalizzato ambiente e salute, in particolare microelettronica, farmaceutica e nutrizione. Questi sono i primi che hanno immediatamente dato risposte e da lì vorremmo partire. Ecco, scusate, non mi ricordavo, la zona è questa qui, quindi vedete in alto quello che dicevo, cioè la parte, questa è tutta la parte diciamo degli istituti scientifici, questo è per chi ricorda il Museo della Tecnica Elettrica e questa è tutta la zona dove nascerà, questo è noto come Capannone di Rubbia, e qui è dove nascerà tutto questo parco. Questo è un istituto scientifico, scusate, un centro di ricerca finanziato da Regione Lombardia, quindi va detto, quando dicevo, c'è la necessità di essere ascoltati dalle istituzioni, sono 12 milioni che ci ha dato Regione per creare un centro di ricerca che si associa a tutto il resto. Il resto sono 15 mila metri quadri, se ne sta occupando con noi a Rexpo, a Rexpo è la stessa che sta sviluppando Mind nella zona del post-expo e quindi con questa collaborazione abbiamo anche un accordo economico per cui paga Rexpo, non paghiamo noi. È chiaro che noi cerchiamo di contribuire in maniera tale che le aziende vengano e collaborino con noi, che i luoghi siano pieni. Allora siamo partiti da microelettronica, come dicevo, ultraceutica, farmaceutica e già le poi apro e chiudo la parentesi dell'incubo che è occuparsi di una cosa del genere in termini di urbanistica, licenze, rapporti con l'amministrazione pubblica. Questo è veramente un incubo. Ecco, questo quindi è l'area che stiamo cercando di sviluppare in quest'ottica. Questo qui è il rendering del centro di ricerca e ancora una volta il rendering di un interno. Quindi vi dicevo prima in sintesi 2.500 metri quadri del centro di ricerca, circa 15.000 per le aziende e i lavori dovrebbero iniziare a luglio di quest'anno. Offerta formativa di qualità internazionale, diciamo internazionale, lo dicevo prima, dobbiamo spingere di più anche nella capacità di attrarre studenti stranieri in Italia. Stiamo aumentando tutti la percentuale di presenza e cosa? Ovviamente prima di tutto trasformazione dei corsi in lingua inglese, noi ne abbiamo 22 oggi, e aumentare le doppie lauree. Abbiamo diversi nuovi accordi e tra l'altro mi piace anche precisare, sottolineare l'ultimo dei punti che vedete qua riportati che riguarda una laurea che abbiamo fatto interateneo, Pavia, Bicocca e Statale nell'intelligenza artificiale. Questo risponde a che cosa? Al fatto di essere attrattivi a livello internazionale. Se ci frazioniamo sempre tutte le volte possiamo avere 3, 3, 3 o magari 5, 1, 2 ma con una minor capacità di branding. Io non dico che si debba fare tutto insieme ma alcune cose, soprattutto della risposta di essere rapida, credo sia più importante farla così. Abbiamo un numero programmato, abbiamo quattro volte il numero di domande rispetto al numero programmato. 150 è il numero di posti disponibili e si presentano di solito in 6-700 molto bravi e da tutta l'Europa. Questo è un esempio perché l'ho portato in una parte internazionale perché è un esempio di capacità di presentarsi a trarre soprattutto su temi dove ognuno di noi andando singolarmente non avrebbe ottenuto lo stesso risultato. Dicevo, offerta andando avanti internazionale, noi come Pavia partecipiamo a un'alleanza europea con altre sette università si chiama European Campus of City Universities raduna università che vedete che hanno la caratteristica come Pavia di essere città-campus quindi la città è determinata principalmente dalle università. È un progetto interessante perché non è solo formazione guarda anche i poli tecnologici all'amministrazione della città e ora siccome abbiamo avuto un prolungamento fino al 29 entreranno anche gli ospedali. Insieme stiamo facendo con queste università tre lauree magistrali congiunte di più noi come Pavia siamo entrati in rappresentanza di questa alleanza in un altro progetto dove ci sono i rappresentanti di altri sette consorsi quindi insieme rappresentiamo 52 Atenei per pensare alla laurea europea cioè come architettare a livello amministrativo ma anche programmatico una laurea europea che permetta agli studenti di girare per gli Atenei otteneranno una laurea che poi è riconosciuta da tutti i paesi che accetteranno Progetti PNRR noi abbiamo avuto abbiamo una grande presenza nell'ambito dei progetti come università nell'ambito dei progetti del PNRR sono circa 17 diversi nell'ambito dei centri nazionali partenariati estesi anzi guidiamo anche quello per i virus emergenti e poi abbiamo stiamo rifacendo l'ortobotanico alcuni nell'ambito della salute e diversi per quanto riguarda il dottorato di ricerca ecco in questi anni complessivamente quindi quelli della durata del PNRR abbiamo ricevuto circa 70 milioni e ci sono 200 persone strutturate che prendono parte grazie al PNRR abbiamo 55 nuovi giovani assunti dicevo prima ecco qualcosa in più quello dei virus emergenti si chiama Infact e siamo capofila insieme al PNRR l'Istituto Superiore di Sanità proprio per guardare quelle che potrebbero essere minacce virali in prospettiva sono 350 ricercatori coinvolti 40 istituzioni e globalmente circa 115 milioni di euro ecco poi per quanto riguarda invece ci tenevo a presentarvi questo progetto che facciamo con l'Istituto di PNRR che è l'ecosistema territoriale è una delle idee degli ecosistemi territoriali è un po' quello che dicevo prima in che modo fare impatto sulla società o sul territorio grazie alla presenza dell'università primo dato risvolto imprenditoriale può essere più esteso noi l'abbiamo voluto interpretare letteralmente nonostante tutto sommato l'Istituto di PNRR anche se lo sapete tutti ma nonostante sia in un territorio vocato all'agricoltura più di ogni altro non ha mai avuto un corso di agraria ora abbiamo fatto un corso di laurea in agri-food però e sicuramente va incontro alla formazione non l'abbiamo mai avuto ciò nonostante io e il prolettore ci abbiamo tenuto a creare un progetto che guardasse all'oltrepo e alla lomellina per dare un contributo allo sviluppo e quindi l'abbiamo incentrato su biogas e focus sulla vite e partecipiamo a questo progetto con tutto il Piemonte proprio perché c'era la possibilità di introdurlo facciamo agroindustria primaria a Pollenzo fanno agroindustria secondaria e a Pollenzo io vado a mangiare bollito e a bere i loro baroli quindi ho detto va bene il pino nero dell'oltrepo però se poi mi offrono il barolo io mi vendo e questo è stato il patto col territorio e abbiamo circa 800 strutturati 100 milioni ma vedete la cosa che a me piace ed è interessante allora a parte i 90 strutturati per via che partecipano ma c'è la possibilità in questi progetti di fare dei progetti di ricerca e dei progetti per le aziende ecco abbiamo tramite un bando competitivo distribuito ora un milione di euro per progetti di aziende dell'oltrepo pavese che si occupano di queste cose qua proprio per dare una condivisione e un impulso rinnovamento degli spazi della didattica vi dicevo stiamo facendo tanto anche grazie al fatto che sono trovate diverse risorse l'idea è quella di rigenerare immobili e luoghi palazzi storici di cui pavia è piena ai fini diciamo di utilizzare la formazione della ricerca e di fare alcune cose invece ex novo dove come negli istituti scientifici le cose più che storiche sono vecchie e hanno bisogno di un profondo rinnovamento in questi anni quando saranno finiti i lavori di cui oggi vi dico qualcosa pavia avrà rinnovato il 70% dell'intero patrimonio immobiliare investendo 190 milioni di cui più del 50% deriva da esito positivo in bandi competitivi e solo il 35% dalle economie dell'università cosa abbiamo realizzato o a cosa stiamo guardando restaurato il chiozzo di San Felice perché è dove c'è economia e commercio qualcosa tanto ve la faccio vedere tra poco palazzo San Tommaso completamente alla fine dei lavori la biblioteca d'arte abbiamo fatto un campus della salute che vuol dire spazi per la medicina all'interno del San Matteo ristrutturando la clinica medica e poi abbiamo rifatto il polo di scienza del farmaco ma andremo avanti a rinnovare chimica e fisica ecco orto botanico biblioteca unificata di area politico giuridico sociale e il museo antropos oggi non c'è il professor Mazzarello mi dispiace il professor Mazzarello è il presidente del sistema museale di Pavia con me e questi progetti del primo museo e di questo secondo li sta curando direttamente lui ecco vediamo vi dico qualcosa in più proprio degli edifici questo era Palazzo San Tommaso qualche anno fa quando abbiamo iniziato a rivedere la facciata e che già segue fa seguito invece la biblioteca che avevamo completato e al cortile interno quindi questo come si presentava non più tardi di due anni fa e questo come lo vedete oggi che capite che insomma anche come impatto sulla città per gli studenti per chi circola è un modo diverso di sentirsi parte di una città che vuole guardare avanti guardate questo cortile beh questo credo che oggi sia il vero centro per i giovani in centro città se uno fa un giro in quei cortili sente parlare quasi solo in inglese che significa che appunto l'accoglienza e comunque da un lato la presenza da un lato l'accoglienza per questi ragazzi è elevata si fanno tantissime iniziative soprattutto d'estate all'aperto andremo questa è la biblioteca andremo avanti con la biblioteca parte un progetto ora per fare tutto il resto del palazzo che nell'arco di un anno e mezzo ancora sarà stato completamente rinnovato ovviamente la biblioteca è precedente al mio rettorato era già era il primo pezzo era stato completato nel 2018 poco prima comunque che io iniziassi palazzo san felice ecco anche qui il cortile è è è un chiostro medievale in sé per sé era un monastero dell'ottocento benedettino comunque questo era medievale vedete come l'ha ridotto mandavano le fotografie ai giornali per dire che l'università deve darci una mano a fare noi ricevevamo noi governance leggevamo sul giornale queste foto che quindi induce ma non è solo l'unico motivo per cui le abbiamo rinnovate comunque questo era come si trattava e vedete come l'abbiamo inaugurato a gennaio dell'anno scorso col ministro come oggi è tutto sommato presente qui poi chiudo una parentesi dico è un privilegio sicuramente voi lo condividete chiunque sia qua vivere e insegnare in spazi di questo tipo però io facendo il rettore devo anche dire qui abbiamo avuto dico ancora abbiamo avuto una mano dal governo anche dalla in questo caso non dalla regione ma dal governo e ci hanno aiutato è un privilegio è bello però i soldi dell'FFO non arrivano perché tu vivi in questi posti arrivano quanti studenti hai quindi mantenerli rispetto a è un'azione sociale rispetto alla quale le comunità dovrebbero anche tutto sommato essere grate all'insieme che i professori e la comunità garantiscono questa è la biblioteca d'arte e sta molto bella davvero molto bella è stata rinnovata pochi mesi fa è ora aperta al pubblico ecco ne vedete alcune parti alcune sezioni ex Mondino allora Mondino che è l'istituto neurologico di Pavia che è stato avviato nel 1917 da Casimiro Mondino che era un andievo di Golgi era prima in centro vedete qua vicino a piazza della Minerva questa è una fotografia ora sono 10.000 metri quadri e abbiamo deciso siamo riusciti a trovare modo di rinnovare sia l'ala sud che l'ala nord nell'ala sud mettiamo una biblioteca di area politico giuridico sociale vista la grande tradizione che comunque abbiamo e qui ne vedo tanti di politici giuridici sono contenti loro giuridici e perché qua volevamo trasferire e creare anche dei luoghi di ricerca e aggregazione questo è come oggi quindi qui non vi dico come è di nuovo questo è proprio come è oggi è una fotografia di oggi i lavori sono iniziati questo è il rendering e nella parte nord invece abbiamo ottenuto un finanziamento per fare un collegio nuovo con 120 persone questo ancora dove più o meno come sarà la parte esterna e proseguendo per questa strada si torna in Corsocavur e poi in piazza in piazza della Minerva questa è la biblioteca è un rendering campus della salute ecco questa è la clinica per chi conosce il policlinico San Matteo dall'ingresso c'è il viale principale a destra c'erano le chirurgie e a sinistra la clinica medica questa è la clinica medica qualche anno fa noi abbiamo preso incomodato tutte e tre le cliniche e abbiamo iniziato a rinnovare questa per creare un polo didattico per gli studenti in medicina pensate che Pavia che ha medicina da 660 anni non aveva sostanzialmente un luogo dedicato alla formazione dei medici nel senso che era delocalizzato in tutto il policlinico però abbiamo pensato di vedete ora queste invece sono fotografie moderne perché l'abbiamo inaugurato a settembre di quest'anno e ovviamente con orgoglio rimane il nome della clinica intitolata da Adolfo Ferrata un ematologo di grande rilievo e queste sono alcune immagini vedete prese dall'alto sono 13.000 metri quadri ecco è davvero molto bello molto questa è un'aula da 120 posti vedete ai vari lati luoghi di studio hanno anche gli studenti dei microonde per mangiare portarsi cibo da dove vogliono ecco abbiamo un ospedale virtuale questo è interessante vedete delle fotografie dei ragazzi con quanto vicino alla realtà riescono ad arrivare questi simulatori per far sì che gli studenti possano esercitarsi in condizioni molto vicine al vero è impressionante e questo sta facendo un massaggio cardiaco e questo è un ulteriore plus della struttura che abbiamo creato scienza del farmaco anche lei inaugurata l'anno scorso sono circa 2500 metri quadri e vedete alcune aule e alcuni laboratori ecco e andremo avanti perché per chi di voi conosce l'area degli istituti scientifici quello che vi ho appena indicato è questo qua è scienza del farmaco questa è via Taramelli questa è tutta l'area dove ci sono dove ci sono istituti di chimica e che sono del 1930 quindi hanno quasi 100 anni e di là c'è fisica ora siccome questi sono proprio vecchi l'idea è quella di rifare completamente tutto su questo lato che vedete buttare giù tutto quello che c'è qui per non continuare poi a conservare che vuol dire mantenere spazi che sono obiettivamente a questo punto vecchi e devo dire che una delle ma anche prima di fare il rettore entravo lì dicevo c'era del giorno in cui gli studenti iniziarono a pensare che nelle scuole superiori avevano luoghi laboratori attrezzature migliori di quelli che trovano li siamo finiti quindi e l'idea soprattutto in comparazione europea l'idea di rinnovare questi spazi appena possibile era uno dei punti a cui ho pensato da subito quella struttura lì che dovrebbe iniziare in cui i lavori dovrebbero iniziare a ottobre sarà una struttura di 25 mila metri quadri costa 70 milioni ne abbiamo avuti una metà dal ministero attraverso un bando e 10 milioni da regione Lombardia e noi mettiamo il resto ecco questo è il rendering di come potrebbe essere l'area di chimica e fisica ci metteremo 3-4 anni penso a completare ecco Palazzo Botta Cosmo Seantrum questo l'artefice il professor Mazzarello e Palazzo Botta io non mi spendo molto perché dico le cose che ho imparato da lui il palazzo è bello di per sé lui dice che forse il palazzo ha maggior densità di ricerca scientifica in Europa questo lo dice lui poi prendetevela con lui perché so io lo sto solo ripetendo però ripeto con orgoglio Golgi faceva gli esperimenti qui e devo dire che purtroppo anche per questione di capacità di rinnovare per i soldi che servono è buona parte era ma ancora ora rimarrà buona parte da recuperare però abbiamo iniziato qualche anno fa col professor Ruge a recuperare una zona abbiamo fatto un museo di storia naturale chiamato Cosmos vedete qui alcune fotografie molto bello è partecipatissimo ci sono 25-30 mila presenze annuali ma dirò di più abbiamo anche avuto la fortuna di associarci a un'associazione che lavora per i ragazzi per i giovani per i bambini gli fa eventi fanno le notti con sacca pelo o anche io ho perso il filo di tutte le cose belle che loro stessi fanno ma è veramente partecipato e vivace questa è un'altra sezione ecco ora stiamo recuperando una zona nuova dove faremo un museo per dare l'idea comunque della nostra volontà e gusto nel recuperare per ridare alla città ciò che merita ciò che ha sviluppato guardate soltanto questi dipinti che sono nella zona che stiamo recuperando i costi che vuol dire che implicano che implica il restauro chiaramente se non facciamo il restauro di queste cose ma non ci pensiamo neanche a non farle la sovrintendenza non ci permette di fare niente quindi la volontà di fare un museo che sarà un museo di medicina per avere storia del naturale e medico e fare un palazzo della vita passa per un investimento che guarda anche a tutti questi dipinti e spazi quindi in sintesi al termine di queste opere avremo 4500 posti in più il campus della salute di per sé ne ospita 2200 e il polo didattico in scienza del farmaco accoglie mille studenti e diciamo pure che l'area di chimica e fisica è anche intesa ed è uno dei motivi quando dicevo presentare la progettualità in modo che si associano i governi e gli enti il fatto di aver presentato l'area di chimica e fisica come una rigenerazione vera e propria urbana ha convinto a intervenire dandoci una mano non mi soffermo molto forse ho usato già abbastanza tempo vero? ci sono? sì sì accelero? no sì avendo davanti un professore ha capito che se mi diceva di no allora sport e residenze intanto io vado avanti come a brei sport e residenze scherzo vado più veloce sport e residenze dicevo prima città campus città universitaria molto importato noi ce ne facciamo un vanto di aver sempre avuto nel centro unitario sportivo un luogo addirittura con i canottieri che lo fanno in modo professionale un luogo davvero di prestigio e stiamo rinnovando diversi spazi per soprattutto campi da padel a cui loro tanto tenevano abbiamo acquisito un collegio nuovo che i salesiani avevano lasciato abbiamo fatto questo attraverso il PNRR e stiamo facendo come ho detto prima un nuovo collegio e rinnovando se potremo questo i soldi non li abbiamo devo essere onesto ancora per rinnovare alcuni dei collegi storici che già sono da noi in conclusione abbiamo stiamo come avete visto rinnovando abbiamo puntato molto al rinnovamento dei spazi perché c'è stata la possibilità investendo quasi 200 milioni in questi quattro anni abbiamo aumentato gli studenti facendo anche di questo un obiettivo che ho dato chiaro all'Ateneo cioè nuova docenza associata a nuova progettualità per i corsi di laurea e in questi anni abbiamo aumentato circa il 13% gli iscritti e gli studenti sono stranieri sono circa 12% offerta formativa con circa 100 corsi di laurea oggi riflessioni conclusive per uno per chi fa università per gli universitari di Pavia l'impegno per città universitaria internazionale è fondamentale come dicevo abbiamo rinnovato molto quindi questo per fortuna per diverso tempo secondo me sarà un problema molto più leggero cioè avendo rinnovato il 70% e soldi da spendere per l'edilizia sono tra i più pesanti di tutti questo rasserena un po' di contro però la forza con cui guardare alla ricerca la qualità della docenza che viene deve rimanere addirittura un incubo per chi dirige una università perché attorno alla qualità delle persone si fa tutto il resto quindi questo secondo me è un aspetto molto importante e ci sono tante minacce attorno dico chiudo solo con le minacce che non ho toccato che vanno dalle università telematiche commerciali lo dico con chiarezza nel senso che c'è una spinta politica bestiale non è fare cultura ma è fare business pensate comunque questa è la minaccia che creo paura anche ai politici quando parlo dicendo attenzione perché dietro a chi fa business in queste cose c'è un interesse non c'entri male al fatto che ci sia interesse però proprio rispetto al mio esordio di dire che abbiamo tutta una una certa storia comunque statale comunque finanziata comunque forte di cultura stiamo barattandola con chi invece commercialmente guarda queste cose provate a riflettere dietro alle grosse Pegaso sta per diventare solo noi riusciamo a far diventare Pegaso la principale università europea tra poco però questa è un'anomalia del paese e dietro a queste università chi c'è? ci sono dei fondi internazionali cioè noi vogliamo dare in mano l'educazione di una di una società a un fondo internazionale vogliamo chiedere come crui la golden share al governo di imporsi no perché golden share rimane italiano grazie io con questo concluso spero nella rapidità però di aver dato il messaggio che volevo dare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti